Sicuro che non fanno religione, perché è un po' materia snobbata, tra l'altro, però io vi devo dire che sono a favore. Perché? Prima di tutto perché comunque se è insegnata è parte della cultura, ma a prescindere, io devo dire che sono stato salvato dalla professoressa di religione. Perché? Anche le... ora non so se funziona allo stesso modo, eh, perché quando andavo io funzionava così. Quindi tutti i professori si riunivano a fine anno e facevano la media totale, no? E dicevano, ah, da me a sei, da me a otto, da me a quattro. Quindi tu praticamente se avevi tot materie sotto il sei venivi bocciato, no? Penso che più o meno funziona così anche adesso. Quindi praticamente io avevo... quell'anno ero stato un po' un segoide, quindi avevo le materie proprio schifo, però la professoressa di religione mi ha, col suo voto, che metteva otto, dieci a tutti, mi ha tirato su e quindi grazie a lei io non sono stato bocciato. Quindi GG. Cioè, ragazzi, è un voto in più, porca miseria, è un voto positivo in più. Poi, se siete super bravi che fate tutte le cose per i crediti e le robe, allora va bene. Perché personalmente io non facevo le cose per i crediti, facevo il minimo e non si fa così, non si fa così. Però era una santa, sì, la saluto molto, molto gentile, infatti. Lo ricordo questo evento qua. Poi, insomma, se voi appena entravano sull'essere religione, iniziate a bestemmiare, ecco che lì, magari, capito, cioè, non ve lo tira più su il voto, però bisogna anche essere un po' furbi, capito? Cioè, devi comportarti bene a tutte le ore, giustamente, bisogna essere civili a scuola, ok? Bisogna essere civili. Tra l'altro voi siete anche sfortunati, perché quando andavo io mi cacciera il registro elettronico. Adesso ogni cosa che fai viene scritta, rimane, porca miseria, elettronica, lo so, sa. Prima tua madre sa che hai fatto schifo di te. Cioè, tu sei lì, a scuola, che magari, boh, fai una scorreggia, però ancora tu non ne hai sentito l'odore, però tua madre ti scrive su WhatsApp o hai scorreggiato in classe, perché lei già lo sa, è già stato scritto sul registro elettronico. E comunque è una violazione dei diritti umani, secondo me. Bisognerebbe dire no al registro elettronico. Cioè, è eccessivo, ragazzi. Parte delle cose che si imparano a scuola, è anche come farla franca. Così è come se stai combattendo contro un robot imbattibile. Cosa devi fare per farla franca? Devi hackerare il registro elettronico. Cioè, è impossibile. È impossibile, no? Eh, cioè, secondo me dovrebbero eliminarlo, perché veramente, non sto scherzando, cioè, il fatto di riuscire a cavarsela, quando fai una gabbanata, una marachella, che tu comunque riesci a intortarti tua madre, a raccontare una bugie, ragazzi, nella vita serve, non ci sono, cioè, è così, serve. Sono cos'è? Sono skill che si imparano. Riuscire a cavarsela da una brutta situazione è una skill che si impara. Se ti metto il registro elettronico e non puoi cavartela, come lo impari questo fatto qua? Mia madre non lo controlla. Ok, ok. Questo è molto buono. Questo è molto buono. Però sei uno dei pochi fortunati, mi sa, eh. Però è anche utile il registro elettronico. Abbiamo un professore tra noi, ragazzi. È infiltrato. Attenzione perché probabilmente potrebbe denunciarmi per ciò che ho detto. Di brutto. Di brutto. Io a mia mamma l'ho nascosto. Come posso dire? No, questo penso sia illegalissimo. Come fai? A nasconderlo a tua mamma. Mia madre non sa tanto l'italiano. Ma il registro elettronico so quattro numeri. Cioè, c'è scritto se prendi quattro, il quattro è facile. Mostraci il mouse che usi. E non voglio far vedere la marca perché mica mi pagano. È questo qua. Cioè, c'è scritto se prendi quattro.